Francesco Polacchi, questa è proprio la classica foto da editore, uno pensa proprio a questo sguardo e questa posa, non è proprio una persona così intonsa, lei mi dirà, risponde di quello che fa lui, però la decisione di Salvini di accettare che un libro che lo riguarda venga pubblicato d'altaforte, non è un segnale... Matteo, onestamente Matteo non sapeva che sarebbe stata questa la casa... Il libro suo insapute? No, no, il libro lui ha lasciato l'intervista, ha rilasciato l'intervista... E non sapeva l'editore? Beh, poteva comunque dire non mi piace l'idea, è comunque il ministro dell'interno. Non sapeva qual era l'editore lui, onestamente non lo sapeva. Però lo conosceva, conosceva Polacchi. L'ha visto come ha visto tante altre persone, però indossava anche i suoi giuglottini pivert, abbia fra foto, cene e eventi, visto metà degli italiani perché gira sempre ovunque. Ma perché strizzate l'occhio a Casa Pound, ed è innegabile che lo facciate perché non avete mai preso nettamente la distanza, a un partito che è allo 0, che voi siete al 30, tutti gli analisti politici si chiedono, ma perché? Cosa c'è sotto? Cosa c'è? C'è sempre qualcosa sotto. Ebbè, perché allora strizzare l'occhio a coloro che si professano i terzi fascismi del terzo millennio? Non capisco cosa vuol dire non prendere le distanze. Non pubblicare con un editore che è di Casa Pound e avere parole nette su questa cosa. Per voi prendere le distanze sarebbe dire, ok, censuriamo, quell'editore non può andare più a nessun solo nel libro. Scarica l'app, vai su iloft.it e abbonati.